Che nei cicli generatori Cerchio medianico K attraverso Marco 8 giugno 1990 Apocalisse a cura di V.B. Giovanni Che nei cicli generatori il principio manifesti la sua legge e che la pace sia con voi. In principio era il Verbo ed il Verbo era presso Dio ed il Verbo era Dio. Prima che ogni candelabro facesse splendere la propria luce era la luce di Dio. Prima che ogni coppa versasse il sangue dell'agnello su Israele vera l'elisir di Dio. Prima che ogni tromba squillasse vera il suono dello spirito di Dio nel tutto. Ma nelle coppe, quando fu aperto il primo sigillo, l'elisir divenne sangue, Le trombe presero a suonare e gli angeli a portare le coppe sugli uomini. Così si adempì, si è adempiuto, si adempie, si adempirà Apocalisse il tutto. Così le verità che trascendono saranno ancora trascese. Così i volti non sorridono, sorrideranno. Per la vittoria del leone della tribù di Giuda, le montagne di roccia saranno gemme preziose. Salve o iniziati, e che l'insegnamento occulto sia con voi, che il principio in voi manifesti la sua legge. Io fu Giovanni, il discepolo che Gesù amava, simbolo per l'occulto delle verità fondamentali della vera religione cristiana. Egli mi disse, finché io torni dall'intimo di ogni uomo, tu scriverai Apocalisse. Essa sarà occulta. Quando io sarò tornato, avrò dato, accanto a quello del vincitore, il mio nuovo nome. Ed il vincitore sarà in me, e Dio in lui. Commento È l'insegnamento occulto dal cerchio medianico K. A noi sembra che sia utile accennarlo già adesso.